È iniziato giovedì e si concluderà domani il torneo internazionale di tennis in carrozzina che si disputa sui campi della Canottieri Baldesio. Numerosi e di valore gli atleti presenti, portacolori di diverse nazioni, pronti a sfidarsi per conquistare la vittoria del future maschile. Molti i volti noti e i campioni che hanno offerto spettacolo, suscitato emozioni e generato entusiasmo tra i presenti. Per alcuni si è trattato di un esordio, per altri di un ritorno e per molti anche l'occasione per rivedere tanti amici. Domenica mattina sicuramente alle ore 9 circa inizierà la finale di singolo in bocca al lupo ai vincitori e chiaramente vi aspettiamo tutti numerosi. Sarà sicuramente una cosa da vedere, uno spettacolo incredibile per chi non ha mai visto il tennis in carrozzina.